Questa che andiamo per fare è una improvvisazione ed anche le persone che qui vedete accanto a me non sanno che cosa accadrà fra poco. È un'improvvisazione anche per loro. L'insegnante che mi ha trasmesso questa danza è un insegnante che vive e lavora in Australia per cui io scrivo e ho scritto che questa danza proviene dall'Australia. In realtà è una musica, si chiama Drop of Water ed è un'improvvisazione sulle gocce d'acqua e può essere utile per le materne perché spesso mi chiedono di avere qualcosa sul tema dell'acqua. Allora proviamo a fare questa che nell'andare è una storia, una storia che ho inventato io ma voi potete inventarne delle altre. Drop of Water, Australia. Allora, cosa dite qua il tempo, quell'aria? Cosa fa secondo voi? Piove o non piove? No. L'avete portato l'amorella? No. Io non so, secondo me là c'è una lungula, la vedete? Sì, sì. E se lì è venuto fuori un po' di sole, però lì ci sarebbe una lungula. Va a vedere che piove. Sì, sì. A presto. A presto. Oh, senti che, che goccia, questa è una goccia pesante, eh? Oh, anche l'iguale. Alla sua, pesante, sai se viene chunga, queste gocci qua? Oh, senti che, non c'uccia, è l'ombre. E' tutto bagnato? E' l'ora? Siamo tutti bagnati, bisogna asciugarci. Sì, se no qua, quando arriva la mamma... Avete nessuna mano? Anche il fondo. E' venuto a fuori il sole. C'è il sole? Sì. Siete vestiti? Sì. Volete la crema? Sì. Vittiamo la crema. Se non ci scottiamo. L'ambulo del spray, eh? Sì. 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 Sapete cosa dico? Cosa? Che ci siamo riposati abbastanza. No, una cosa! Al passo! Stop! Cosa dite? Quasi così piove! Poi, andiamo a casa! Oh, 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 oh. Kick song. Grazie.